Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Vorrei concludere questi nostri incontri con un episodio davvero avvenuto. Me lo ha raccontato il mio primo parroco, che ora è in paradiso. Dico anche il nome perché molti l'hanno sentito da lui questo episodio. Don Eutizio Fanano mi diceva che quando era giovane viceparroco, ma a quel tempo il viceparroco veniva chiamato curato al centro di Roma, e precisamente nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, vedeva una vecchietta brutta, storta, che chiedeva le limosine. La descriveva che era brutta come la befana, il naso quasi si congiungeva al mento, piena di rughe. Ma questa donna era una donna piena di fede e soprattutto aveva tanta fede in Maria. La parrocchia chiedeva le limosine per potersi sostenere e quindi la parrocchia non la dimenticava, la curava, la aiutava. Un giorno Don Eutizio se la vede in sacristia. Tira fuori da dentro il petto un fazzoletto, scioglie i nodi e tira fuori tutte le monetine d'oro, così le chiamava lei, le 20 lire appena uscite. Quanto è il costo di una messa? Sono 50 lire, a quel tempo era questa l'offerta per una messa. Bene, lei conta 5 monetine d'oro per arrivare a 100 lire e quindi dà il doppio di quello che davano tutti gli altri. Ma non devi darmi per forza l'offerta, dice il viceparroco. Ti dico la messa e metto le tue intenzioni anche senza l'offerta. Io non voglio la tua offerta. Lei invece si impose, la devi prendere e prendi il doppio che ti danno gli altri. Va bene, ma dimmi per che cosa devo dire questa messa? E allora questo volto di questa donna, con degli occhi chiari, luminosi, veramente felice, dice devi dire la messa per ringraziare Dio d'aver fatto la Madonna così bella. Quando me la ricordava, Don Eutizio, me la ricordava con le lacrime agli occhi. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede di chi crede nel Signore e che ha incontrato Maria. E anche teologicamente, dire una messa perché la messa è il ringraziamento più alto che possa salire all'altissimo. E quindi lei aveva capito che la messa era la preghiera più alta. Voleva metterci il suo sacrificio. Aveva raccolto le lemosine, non aveva mangiato. Pur di arrivare al doppio dell'offerta che di solito tutti gli altri danno. Quindi aveva partecipato col suo sacrificio. E una volta che aveva ordinato la messa, lei la fa con quell'intenzione che indica una fede purissima. Perché aveva capito che la Madonna era la creatura più bella. Quello che ci siamo detti in questi incontri. Veramente la più bella meditazione sull'immacolata concezione di Maria. Voglio ringraziare il Signore con una messa per aver fatto la Madonna così bella. Io concludo questi nostri incontri con la preghiera scritta da Papa Francesco per questo anno pastorale della Diocesi di Roma. Maria, donna dell'ascolto. Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi. Fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo figlio Gesù fra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore. Perché sappiamo obbedire la parola del tuo figlio Gesù. Senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri. Per portare la carità e l'amore del tuo figlio Gesù. Per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen.